L'hai preso il mitico Ian, andiamo nel vault No, andiamo nel vault Dov'è? Vai, Dani andiamo a pigiare Non fa niente Vieni, vieni, vieni Vieni Ok, vai Ci sono delle persone Ian Va bene, va bene No, a me non me frega Non c'è un bene, che poi ci muori Dove andiamo? Ian, metti il punto Peter è bianco C'è curato Peter Adesso questa volta prendo io l'arma E io prendo il medaglione Ok Vai Vai Ian, dobbiamo andare intanto andiamo al cavo, Danny aspetta, se non prende io ho 36 Ian, aspettami Danny qua, Danny qua, no, dove vai? ah, ok, passi di là non devi prendete l'arma, per favore aspetta aspetta, aspetta Ian, vado a uccidere il boss si, non si, non si, non si mamma mia, mette mille di ore a ricaricarti il mitico è qua oh, un ovo, 5 di vita io prendo il cecchino Ian, hai una cura? andiamo a grandi acciaio, andiamo a grandi acciaio si, cos'è, prendete tutto il medaglione della terra andiamo a grandi acciaio, Fatima si, raga, cos'è? si, però, raga, aspettateci un attimo nel senso dai, Ian, aspettiamoli no, 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 Fatima, andiamo eh, no, 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 no ok Ian, a me mi serve una cura poi ci dividiamo tutto vabbè e poi ci dividiamo tutto meno male che l'ho detto perché se no ci rubavamo tutto Dani, infatti il... il... ma c'è il boss lì? eeeh... ok Ian, stiamo quasi per prendere tutti i medaglioni, eh dai, dai, dai vediamo se stavano se riusciamo, andiamo dai non date da Tana non date da Tana eh, si l'hanno presa Tana? no ragazzi, mi servono le cure a me oh, va si, ok Ian, a me serve una cura Dani, vai, andiamo a correre e anche a me e ha troppo poca vita dai, noi andiamo a Tana, ok? si, spero è un po' lontanino no, raga non ci riusciamo ad andare a Tana è troppo lontano no, fidati facci se la sens Ian fatimo a testare il boss ma come? sono 5 di vita io ah, è vero eeeh, no, non ci riusciamo, raga allora ci riconosciamo a a, 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 a a, a, a colline celeste ok? è finita vicino a voi lo fa io non ci dite al boss oh, c'è uno con la skin di mida quella che ho io non te da ora, andiamo a dare a taglia attento Ian ah sì, no, andiamo a colline andiamo a colline ci andiamo a calverarla Prenditi l'arma e ho il medaglione No Ti do il medaglione Ian Andiamo Trova che andiamo C'era uscite Ian sta arrivando la tempera E' che lag Ian Ian Vabbè Ian Prendi la mia scheda almeno E anche le mie armi mitiche Per favore Non posso No Tavolo era una bella partita Sì Vabbè vabbè Dopo dobbiamo fare sempre così Eh sì sempre così Sì ma raga Non ci dobbiamo dividere E' vero Dobbiamo stare insieme Per vincere Ancora di più C'è proprio Probabilità di morire Cerco di prendere un'arma Una Ecco Ecco Una cura No raga Non facciamo così E' impossibile Moriamo sicuro Siete fuori o siete dentro Io sono dentro Io sono dentro Io sono vicinissimi Bravo Ian Prenditi qualsiasi cura Lascia il dono Ian Prenditi qualsiasi cura Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il pompa mitico, Ian. Ma come? Perché li hanno lasciati? No, ma questi non stanno bene. C'erano qualcosa fuori terri. Prendi moto. Prendi moto. No, no, fa troppo rumore. Ian, vai a restare qua. E' la mia scheda. Andiamo qua, puoi restarci, Ian. Ian, ma chi può fare il mio cucile? Di pompa? La mia povera scheda. Eh, Fatima, noi non ci riusciamo ad arrivare da te. Cioè, Ian, ma neanche noi riusciamo. Perché ci siete andati? Potevamo venire a zona così non ci muovivamo. Sì, sì. Ma voi avevate un medaglione? Dani, li hanno rubato. Ma significa avevamo preso cinque medaglioni? Trancilieni? No, quattro. No, ne abbiamo quattro. Ah, sì. Ah, Dani, posso i pompa? Cioè, io ne posso colpi di pompa? Io vi guardo. Vi guardo. Uh, c'è qui. Anche il cecchino? Oh, quello che mi piace a me è. C'è gente? No, no. C'è già tu. Ah, sperare. Ian, qua c'è il boss. Ah, c'è ancora il boss. No, è un boss. No, non so se ci sono. C'è un boss. Sulle guardie. Da bianco, c'è un boss. Sperano di qua. Fatima, mi dispiace. Fa niente, dovete solo vincere. Vinciamo per te. Esatto. Sì. Sì. Ti proviamo. Sì. Per me ce l'ha fatta a vincere. Vincere. È un po' improbabile, però. Ci proviamo. Ah, c'è Dani, Dani. Arriba, arriva, arriva. Grande, Ian. Ai, dai, dai. No, ragazzi. Dani, curati, curati. Sì. Dani, curati. Sì. E la toglia. Franci, vabbene a prendere. Ian, no, Dani, prenditi lo scudo. Scudo. Bravo, Franci. Bravo. Mi puoi andare a prendere i due medaglioni che erano... I due medaglioni. Daniel, mi vai a prendere i due medaglioni. Sì, sì, sì. Te lo permette, Dani. Attento, Dani. Mi prendi i due medaglioni. È quello di rotalie e di grandi accia... È quello di... Questo è il mio. E poi quello di rotalie. Le li puoi dare. Ah, io ci muoio. Non ti dà una mica. Ti prego. Cura, cura, cura. 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 Aspetta. Guarda, Dani, c'è gente. No, 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 no. Non ci dici. Vai. Dani, curati. Cura. Vai. Mi puoi dare il fucile d'assalto ai due medaglioni? Sì, sì. Io ti ho ridato il pompa. Sì, lo voglio ridare a Daniel. E' bello. Ah. E' vero, è vero. E' vero, è vero. Daniel, vieni che ti do. Gente, con il mio Instagram. C'è il mio Instagram. C'è il mio Instagram. Franci, mi dai? Eh, Franci, mi dai. Mancano cinque persone, ragazzi. I colpi di... Di assalto. Sì. Vieni da me, Bro. Ok. Non ce l'ho io, ragazzi. Ma dov'è? Ai, 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 ai. Mi lancia... Da l'assalto. Dani, ti sto guardando. C'è l'assistente. 110, 110. Ah, quello là è anche se stai andando. No. Ai, ai, ai. Eh, c'hanno il basso. C'hanno l'assistente. Prenditi, curati subito, curati. Eh, io sono. Dani, muori. Non, 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 non. Tira, se stai andando con il lavoro. Eh, mo... Dai, 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 dai. Ma prova a entrare! Dani, entra. Grazie, 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 grazie. Troppo gentile. Mano il pianista. No, no, ce l'ho, ce l'ho. No, no, ce l'ho, ce l'ho. Adio. Mi dai colpi di assalto, ancora? Io? Sì. Grazie. Aiuto. Da dietro! Anche... Colpi pompa, ce li hai. Pompa. Allora. Lo invito. Lo invito. Lo invito, Jones. Siamo tre contro tre, contro due. Ragazzi, questo è un amico di mio papà. Ciao, Jones. Dani, è un mio papà. Dai, 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 dai. Qualcuno ha... Tieni, Dani. Ma te, non ti sento c'è. Ti ha? Ti ha giù. Jones, arriva il mio papà, eh? Sì, sì, tranquillo. Tieni, ragazzi, potete vincere! Mancano quattro persone! Ma che quattro persone? Guarda, tre, sette meno tre fa quattro! Eh, no, quattro persone, mancano sette. Sento cinque. Oh no. Oh no. È caduto, è caduto i coppi. Bravo! L'ha ucciso. Vai, che quello è bello forte. Ehi, curati! il mio cuore è in mezzo il mio cuore è in mezzo quando è in mezzo ragazzi non posso fare davvero ragazzi non posso fare davvero sono sotto? no, uno è sopra col cieco uno è sopra o uno è sotto uno è dietro uno è dietro e uno è di sotto io ho fatto un 116 io sono morto tre e mezzo tre e mezzo tre e mezzo uno solo posso o no? ehi, guarda quanta vita ho io uno 4 no, dallo grazie grazie ti aiuta una 1 poi arrivo a prendere la 6 adesso oh oh devo parlare con l'oro ooo 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 cui questo vuol dire ah aiuto aiuto Sì! 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 No! Ma perché me l'ha fatto? Andatemi a curare! Sì! Una parola! Mamma? Eh, non ci riusciamo! È sopra! Eh, non ce l'ho visto! Però non ci riusciamo! Perché c'è la seffia! Uno è sul binario! Eccone! Alla sua destra! Alla sinistra qua giù! Stai con l'altra pompa! Oh no! Scusate! Prendi la pompa! Non lasciarlo di destra! Mami! È la via! Sinistra! Sinistra! Sotto! 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 Grazie a tutti.